Verranno però venuti o comunque assegnati, ripeto, come opere da collezione o comunque opere d'arte, proprio perché non è un vino trattato da poter tenere. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, però poi ve lo indico volentieri a ritorno, all'interno della sala centrale, nella teca, c'è un decanter. Quel decanter è il primissimo dei 330 che rimarrà esposto per sempre da noi nel museo, proprio perché è a ricordo di questo reno.